buongiorno a tutti i miei cari amici dal vostro carissimo amico Giacomo Undrona oggi 20 giugno 2023 buongiorno a tutti i miei cari amici iscrivetevi al mio canale Giacomo Untrona condividete il video se vi è piaciuto e mettete un like buongiorno a tutti dal vostro carissimo amico Giacomo Undrona iscrivetevi al mio canale Giappuntri buongiorno a tutti mi cari amici allo vostro carissimo Alico Giappuntri